Sono vecchio ormai, più che ottobagenario, nell'anno che corre dell'era cristiana 1858, e pur giovane di cuore, forse è meglio che non fossi mai nella combattuta giovinezza e nella stanchissima virilità. Molto vissi e soffersi, ma non mi vennero meno quei conforti che, sconosciuti le più volte, di mezzo alle tribolazioni che sempre paiono soverchi alla smoderatezza e cascataggine umana, pur sollevano l'anima alla serenità della pace e della speranza, quando tornano poi alla memoria, quali sono veramente. Talismani invincibili contro ogni avversa fortuna. Intendo quegli effetti e quelle opinioni che, anziché prender norma dalle vicende esteriori, comandano vittoriosamente ad esse e se ne fanno agone di operose battaglie. La mia indole, l'ingegno, la prima educazione, le operazioni e le sorti progressive furono come ogni altra cosa umana, mi stè di bene e di male. E se non fosse sfoggio indiscreto di modestia, potrei anche aggiungere che, in punto di merito, abbondò piuttosto il mare che il bene. Ma in tutto ciò nulla sarebbe di strano o degno di essere narrato, se la mia vita non correva a cavalcione di questi due secoli che resteranno un tempo assai memorabile massime nella storia italiana. Infatti fu in questo mezzo che diedero primo frutto di fecondità reale, quelle speculazioni politiche che dal 1300 al 1700 trasparirono dalle opere di Dante, di Machiavello, di Filicaia e di Vico e di tanti altri che non soccorrono ora alla mia mediocre coltura e quasi ignoranza letteraria. La circostanza, altri direbbero la sventura di avere vissuto in questi anni, mi ha dunque indotto nel divisamento di scrivere quanto ho veduto, sentito, fatto e provato. Dalla prima infanzia al cominciare della vecchiaia, quando gli acciacchi dell'età, la condiscendenza ai più giovani, la temperanza delle opinioni senili e, diciamolo anche, esperienza di molte e molte disgrazie in questi ultimi anni mi ridussero a quella dimora campestre dove aveva assistito all'ultimo e ridicolo atto del gran dramma feudale. Né il mio semplice racconto rispetto alla storia ha diversa importanza di quella che avrebbe una nota apposta da ignota mano contemporanea alle rivelazioni di un antichissimo codice. L'attività privata di un uomo che non fu né tanto avara da trincerarsi in se stessa contro le miserie comuni, né tanto stoica da opporsi deliberatamente ad esse, né tanto sapiente o superba da trascurarle disprezzandole, Mi pare in alcun modo riflettere l'attività comune e nazionale che la assorbe, come il cadere d'una goccia rappresenta la direzione della pioggia. Così l'esposizione dei casi miei sarà quasi un esemplare di quelle innumerevoli sorti individuali che dallo sfasciarsi dai vecchi ordinamenti politici al rafforzarsi dai presenti composero la gran sorte nazionale italiana. Mi sbaglierò forse, ma meditando dietro essi potranno alcuni giovani sbaldanzirsi dalle pericolose lusinghe e tali altri anche infervorarsi nell'opera lentamente ma durevolmente avviata. E molti poi fermare in non mutabili credenze quelle vaghe aspirazioni che fanno loro tentare cento vie prima di trovare quell'una che li conduca nella vera pratica del ministero civile. Così almeno parve a me in tutti i nove anni nei quali a sbalzi e come suggerivano l'estro e la memoria veni scrivendo queste note. Le quali, incominciate con fede pertinace alla sera di una grande sconfitta e condotte a termine attraverso una lunga espiazione in questi anni di rinata operosità, contribuirono alquanto a persuadermi del maggior nerbo e delle più legittime speranze nei presenti, con lo spettacolo delle debolezze e delle malvagità passate. E ora, prima di prendere a trascriverle, vogli con queste poche righe di proemio definire e sanzionar meglio quel pensiero che a me, già vecchio e non letterato, cercò forse indarno insegnare la malagevole arte dello scrivere. Ma già la chiarezza delle idee, la semplicità dei sentimenti e la verità della storia mi fanno scusa e più ancora supplemento alla mancanza di retorica. La simpatia dei buoni lettori mi terrà vece di gloria. All'imitar della tomba, già ormai solo nel mondo, abbandonato così dagli amici che dai nemici, senza timori e senza speranze che non siano eterne, libero per l'età da quelle passioni che sovente purtroppo deviarono dal retto sentiero i miei giudizi e dalle caduche lusinghe della mia non temeraria ambizione, un solo frutto raccolsi della mia vita, la pace dell'animo. In questo vivo contento e in questa mi affido. Questa io addito ai miei fratelli più giovani come il più invidiabile tesoro e l'unico scudo per difendersi contro gli adescamenti dei falsi amici, le frodi dei vili e le sopercherie dei potenti. Un'altra asseveranza de gioio fare alla quale la voce di un ottoagenario sarà forse per dare alcuna autorità e questa è che la vita fu da me sperimentata un bene ovè l'umiltà ci consenta di considerare noi stessi come artefici infinitesimali della vita mondiale e la rettitudine dell'animo ci avvezzi a riputare il bene di molti altri superiore di gran lunga al bene di noi soli. La mia esistenza temporale come uomo tocca ormai al suo termine. Contento del bene che operai e sicuro di aver riparato per quanto stette in me al male commesso non ho altra speranza ed altra fede se non che essa sbocchi e si confonda oggi mai nel gran mare dell'essere. La pace di cui codo ora è come quel golfo misterioso in fondo al quale l'ardito navigatore trova un passaggio per l'oceano infinitamente calmo dell'eternità. Ma il pensiero prima di tuffarsi in quel tempo che non avrà più differenza di tempi si slancia ancora una volta nel futuro degli uomini e ad essi lega fidelmente le proprie colpe da espiare le proprie speranze da raccogliere i propri voti da compiere. Io vissi i miei primi anni nel castello di Fratta il quale adesso è nulla più di un mucchio di rovine dove i contadini traggono a loro grado sassi e rottami per le fronde dei gelsi. Ma l'era a quei tempi un gran caseggiato con torri e torricelle un gran ponte elevatoio scassinato dalla vecchiaia e i più bei finestroni gotici che si potessero vedere tra il lemene e il tagliamento. In tutti i miei viaggi non mi è mai accaduto di vedere fabbrica che disegnasse sul terreno una più bizzarra figura né che avesse spigoli, cantoni, rientrature e sporgenze da far meglio contenti tutti i punti cardinali e intermedi della rosa dei venti. Gli angoli poi erano combinati con siardita fantasia che non ne avea uno che vantasse il suo compagno. Sicché ad architettarli non si era adoperata la squadra ovvi erano stancate tutte quelle che ingombrano lo studio di un ingegnere. Il castello stava sicuro a meraviglia tra profondissimi fossati dove passevano le pecore quando non vi cantavano le rane. maledera temporeggiatrice era venuta investendolo per le sue strade coperte e spunta di qua in erbica di là avea finito col fargli addosso tali paramenti d'arabeschi e festoni che non si discerneva più il colore rossigno delle muraglie di cotto. nessuno si sognava di por mano in quel manto venerabile dell'antica dimora signorile e appena le imposte sbattute dalla tramontana si arrischiavano talvolta di scompigliare qualche frangia cadente. Un'altra anomalia di quel fabbricato era la moltitudine dei fumaiuoli i quali alla lontana gli davano l'aspetto ad una scacchiera a mezza partita e certo se gli antichi signori contavano un solo armigero per camino quello doveva essere il castello meglio guernito della cristianità. Del resto i cortili dai grandi porticati pieni di fango e di pollerie rispondevano col loro interno disordine alla promessa delle facciate e perfino il campanile della cappella portava schiacciata la pigna dai ripetuti saluti del fulmine ma la perseveranza va in qualche modo gratificata e siccome non mugolava mai un temporale senza che la ciocca campanella del castello non gli desse il bene arrivato così era suo dovere rendergli cortesia con qualche saetta altri davano il merito di queste burlette meteorologiche ai pioppi secolari che ombreggiavano la campagna intorno al castello i villani dicevano che siccome lo abitava il diavolo così di tratto in tratto gli veniva qualche visita dei suoi buoni compagni i padroni del sito avvezze a veder colpito solamente il campanile si erano accostumati a crederlo una specie di parafulmine e così volentieri lo abbandonavano all'ira celeste purché ne andassero salve le tettoglie dei granai e la gran cappa del cammino di cucina ma eccoci giunti a un punto che richiederebbe di per sé una assai lunga descrizione bastavi il dire che per me che non ho veduto né il colosso di Rodi né le piramidi d'Egitto la cucina di Fratta e il suo focolare sono i monumenti più solenni che abbiano mai gravato alla superficie della terra il Duomo di Milano e il Tempio di San Pietro sono qualche cosa ma non hanno di gran lunga l'uguale impronta di grandezza e di solidità un che dissimile non mi ricorda d'averlo veduto altro che nella mole Adriana benché mutata in Castel Sant'Angelo la sembri ora di molto impicciolita la cucina di Fratta era un vasto locale di un indefinito numero di lati molto diversi in grandezza il quale salzava verso il cielo come una cupola e si sprofondava dentro terra più di una voragine oscuro anzi nero di una fuligine secolare sulla quale splendevano come tanti occhioni diabolici i fondi delle cazzeruole delle leccarde e delle guastarde appese ai loro chiodi e ingombro per tutti i sensi da enormi credenze da armadi colossali da tavole sterminate esultato in ogni ora del giorno e della notte da una quantità incognita di gatti bigi e neri che gli davano figura ad un laboratorio di streghe tutto ciò per la cucina ma nel canto più buio e profondo di essa apriva le sue fauci un altro accherontico una caverna ancor più tetra e spaventosa dove le tenebre erano rotte dal crepitante rosseggiar dei tizioni e da due verdastre finestrelle imprigionate in una doppia inferriata là un fumo denso e vorticoso là un eterno gorgoglio di fagioli mostruose pignate là sedente in giro sovra panche scricchiolanti e affumicate un sinedrio di figure gravi e arcigne e sonnolente quello era il focolare e la curia domestica dei castellani di fratta ma non appena suonava l'Ave Maria della sera ed era cessato il brontolio dell'Angelus Domini la scena cambiava ad un tratto e cominciavano per quel piccolo mondo tenebroso le ore della luce la vecchia cuoca accendeva quattro lampade ad un solo lucignolo due ne appendeva sotto la cappa del focolare e due ai lati di una madonna di Loreto percoteva poi ben bene con un enorme attizzatoio i tizzoni che si erano assopiti nella cenere e vi buttava sopra una bracciata di rovi e di ginepro le lampade si rimandavano l'una all'altra al loro chiarore tranquillo e giallognolo il fuoco scoppiettava fumigante e sergeva spire vorticose fino alla spranga trasversale dei due alari giganteschi borchiati di ottone e gli abitanti serali della cucina scoprivano alla luce le loro diverse figure il signor conte di fratta era un uomo d'oltre a sessant'anni il quale pareva avesse svestito allora allora l'armatura tanto si teneva rigido e pettoruto nel suo seggiolone ma la parrucca con la borsa la lunga zimarra color cenere gallonata di scarlato e la tabacchiera di bosso che aveva sempre tra mano discordavano un poco da quell'attitudine guerriera gli è vero che aveva intralciato fra le gambe un filo di spadino ma il fodero n'era così rugginoso che si poteva scambiarlo per uno schidione e del resto non potrei assicurare che dentro a quel fodero vi fosse realmente una lama d'acciaio ed egli stesso forse non avea mai preso la briga di sincerarsene il signor Conte era sempre sbarbato con tanto scrupolo da sembrare appena uscito dalle mani del barbiere portava da mattina a sera sotto la scella una pezzuola turchina e benché poco uscisse a piedi né mai a cavallo avea stivali e speroni da disgradarne un corriere di Federico II era questa una tacita dichiarazione di simpatia al partito prussiano e benché le guerre di Germania fossero da lungo tempo quietate egli non aveva cessato dal minacciare agli imperiali il disfavore dei suoi stivali quando il signor conte parlava tacevano anche le mosche quando avea finito di parlare tutti dicevano di sì secondo i propri gusti e con la voce o col capo quando egli rideva ognuno si affrettava a ridere quando stremutiva anche per la causa del tabacco otto o nove voci gridavano a gara viva salute felicità dio conservi il signor conte quando si alzava tutti si alzavano e quando partiva dalla cucina tutti perfino i gatti respiravano con ambidue i polmoni come si fosse loro tolta dal petto una pietra da mulino ma più rumorosamente ad ogni altro respirava il cancelliere se il signor conte non gli facea cenno di seguirlo e si compiaceva di lasciarlo ai tepidi ozzi del focolare conviene però soggiungere che questo miracolo avveniva di rato per solito il cancelliere era l'ombra incarnata del signor conte salsava con lui sedeva con lui e le loro gambe s'alternavano con si giusta misura che pareva rispondessero ad una sonata di tamburo nel principiare di queste abitudini le frequenti diserzioni della sua ombra avevano indotto il signor conte a volgersi ogni tre passi per vedere se era seguitato secondo i suoi desideri sicché il cancelliere era quasi rassegnato al suo destino e occupava la seconda metà della giornata nel raccogliere la pezzuola del padrone nell'augurargli salute ad ogni esternuto nell'approvare le sue osservazioni e nel dire quello che giudicava dovesse riuscirgli gradito delle faccende giurisdizionali per esempio se un contadino accusato di appropriarsi le primizie del verziere padronale rispondeva alle paterne del cancelliere facendogli le fiche ovvero sia cacciandogli in mano un mezzo ducatone per rispermiarsi la corda il signor cancelliere riferiva al giurisdicente che quel tale spaventato dalla severa giustizia di sua eccellenza avea domandato mercè e che era pentito del malefatto e disposto a rimediare con qualunque ammenda si avesse stimato opportuna il signor conte aspirava allora tanta aria quanta sarebbe bastata a tenere vivo Golia per una settimana e rispondeva che la clemenza di Tito deve mescolarsi alla giustizia dei tribunali e che egli pure avrebbe perdonato a chi veramente si pentiva il cancelliere forse per modestia era tanto umile e sdrucito nel suo ernese quanto il principale era splendido e sforzoso ma la natura gli consigliava una tale modestia perché un corpiciuolo più meschino e magagnato del suo non lo si avrebbe trovato così facilmente dicono che si mostrasse guercio per vezzo ma il fatto sta che pochi guerci aveano come lui il diritto di essere creduti tali il suo naso aquilino rincagnato adunque e camuso tutto in una volta era un nodo gordiano di più nasi abortiti insieme e la bocca si spalancava sotto così minacciosa che quel povero naso si tirava alle volte in su quasi per paura di cadervi dentro le gambe stivalate di bulgaro divergevano ai due lati per dare la massima solidità possibile ad una persona che pareva dovesse crollare ad ogni buffo di vento senza voglia di scherzare io credo che detratti gli stivali la parrucca gli abiti la spada il telaio delle ossa il peso del cancelliere di fratta non oltrepassasse le venti libri sottili contando per quattro libri abbondanti il gozzo che cercava nascondere sotto un immenso collare bianco inamidato così com'era egli aveva la felice illusione di credersi tutt'altro che sgradevole e di nessuna cosa egli ragionava tanto volentieri come di belle donne e di galanterie